La partita più brutta di questo campionato, pensavo che le porte chuse ci potessero dare anche un minimo di vantaggio nonostante che eravamo a casa, sono veramente deluso dell'atteggiamento della squadra, io sono già sceso tra il primo e il secondo tempo sotto ad arrabbiarmi, volevo dire un altro termine però non è il caso, tant'è che un minimo risultato si era visto nella ripresa, una scossa ma è assolutamente insufficiente, credo che questa squadra ha bisogno veramente di un cambio di rotta che non è una questione di allenatore, è proprio una questione di mentalità, evidentemente qualcosa, come si dice, come dicevano i nostri genitori, il troppo attrippo, almeno a me mi diceva così mio padre, effettivamente stiamo un pochettino fuori quelli che sono gli obiettivi. Pensa di adottare qualche provvedimento? Questo sinceramente non lo so, non so che dirti, di certo che se loro non cambiano l'atteggiamento, questo è veramente una cosa, una debbaga totale, anzi li vedo perché durante gli elementi sono motivati, durante la partita erano motivati, poi dopo questo entrare in campo non so se sarà stata l'atmosfera di queste porte chiuse, sicuramente questo però non è detto perché insomma anche nell'altra parte, l'altra squadra è stata molto aggressiva all'inizio, quindi bisognava approfittare delle porte chiuse, anzi noi abbiamo fatto dei ragionamenti che queste porte chiuse, considerando le tre trasferte che abbiamo fuori casa, anche abbastanza importanti, specialmente quelle con la Ternana ci avrebbero dovuto favorire, ma se questi sono i risultati che si vedono dentro casa, di certo le porte chiuse non ci aiuteranno né dentro né fuori casa. Guarda, io non credo che sia una questione di mister, è una questione perché vedo comunque anche delle novità nel campo, nella disposizione di gioco, io credo che il passo indietro sia nella testa dei giocatori, questo deve essere assolutamente sconfitto in qualche modo, non so se io, i direttori, il mister, ma sicuramente qualcosa dovremmo fare perché questa squadra così non può andare avanti. C'è bisogno di un psicologo? No, c'è bisogno di un po' di mazzate più che di un psicologo, i giocatori non hanno bisogno di un psicologo.